Sabato 27 maggio, giornata importante per Coldiretti, quarto compleanno del mercato di Via Montebello. Che cosa accadrà dunque nella giornata di sabato? Sabato 27 maggio festeggeremo appunto il quarto compleanno del mercato di Via Montebello 43 in cui vedremo appunto partecipare ai festeggiamenti, sia ai nostri clienti che sono sempre appunto i benvenuti per fare la spesa chilometro zero nel nostro mercato e avremo ospiti anche l'associazione APS di Mesola. Questa associazione si occupa della cura e dell'intrattenimento dei ragazzi diversamente abili e presso il nostro mercato di Via Montebello faremo un laboratorio con questi ragazzi della produzione della pasta fresca. Quindi faremo la pasta fresca insieme a loro e soprattutto insieme al nuovo presidente di Terra Nostra Ferrara che è appunto Jacopo Tasca dell'Agriturismo Canova di Ro Ferrarese. Possiamo avere qualche dettaglio dunque del programma di questa mattinata? Sì diciamo che i festeggiamenti partiranno dalle 10.30 in cui avremo un mini DJ set dedicato alla musica degli anni 70, 80 e 90 nella zona del soppalco del mercato e sempre appunto all'interno del soppalco avremo l'inaugurazione di una mostra di disegni e di opere realizzate da persone e ragazzi che hanno partecipato a queste lezioni presso l'Università Popolare di Ferrara. Questa mostra sarà curata dall'architetto Fernando Adriao e appunto aspettiamo tutti i nostri clienti per visitarla e soprattutto a partire dalle 11 per il taglio della torta e per la consegna di alcuni gadget a sorpresa per i nostri clienti. Un giorno di festa ma un giorno anche molto importante per Coldirette perché stiamo attraversando un periodo molto delicato dopo l'emergenza delle alluvioni in Romagna e voi avete dato vita ad alcune iniziative. Ecco raccontiamo di cosa si tratta e cosa avete in progetto. Sì l'iniziativa si riallaccia un po' a quello che a livello regionale è stato lanciato con il Diretti Megli Romagna con una raccolta fondi quindi con un conto corrente dedicato quindi i cittadini consumatori che verranno al mercato potranno anche trovare tutti i riferimenti nel caso volessero farlo. In particolare però il mercato si offre ancora una volta come momento di solidarietà, di socialità. Abbiamo ricordato in precedenza il Covid dove è stato un momento dove ci sta comunque generosità e offerta di prodotti con la spesa sospesa e altre iniziative simili. Ecco questo sabato mattina vogliamo un po' riprodurlo con una raccolta fondi dedicata quindi invitiamo più persone possibili a venire a trovarci al mercato non solo per fare la spesa di qualità e per godere un po' di quello che sarà un po' la festa ma anche proprio in tanti per dare tanto, quindi donarli il più possibile in un'urna che allestiremo e che poi sarà destinato tutto l'incasso a una famiglia che individueremo come Coldiretti con i nostri colleghi di quelle province in modo da poterla sostenere nelle necessità più impellenti che sicuramente ci sarà bisogno. Quindi abbiamo questa idea, ne avremo probabilmente altre che riusciremo a mettere in campo le prossime settimane e vogliamo sicuramente come Ferrara dare il nostro contributo di generosità e sensibilità che parte dal mercato, appunto un mercato come luogo di socialità, di incontro, di relazione non soltanto tra i cittadini e gli agricoltori che vendono ma anche tra persone di territorio che non sono semplicemente il nostro.